Allora ragazzi belli, fratelli juventini, sorelle juventine, è bello che Tiago Motta creda nei giovani, creda nel turnover, nei cambi, nel mettere in campo le formazioni che di volta in volta ritiene più opportune, però ci sono alcuni giocatori che secondo me in alcune partite, quando si gioca con le big o quasi big, ovviamente ci metto sia Roma che Lazio e Atalanta, le big sono Milan e Inter e Napoli, quando ci sono queste partite sarebbe vero che non li facessi giocare. E poi la cosa più importante, se tu hai difficoltà, perché la fase offensiva della Juventus, signori, è da conati di vomito, quest'anno noi abbiamo sbloccato le partite perché ci hanno sbagliato i nostri avversari, siamo ripartiti poi dal primo gol, la Juve quando fa gol si sblocca perché abbiamo visto anche stasera, ha iniziato a essere molto pericolosa dopo il gol, o meglio autogol, regalo della Lazio, perché credo che la partita sarebbe finita 0-0, meno male perché il mio pronostico è stato azzeccato, quindi la mia stringa continua in maniera positiva nel pre-partita. Però ragazzi, non è sempre domenica, le campane non suonano sempre a festa, ci saranno sicuramente dei problemi da risolvere e vanno risolti alle svelte. Io credo che il peccato originale comunque continui ad essere quello che non è stato comprato un vice Vlaovic. Si sapeva che Milic era infortunato, addirittura la società pare che non puntasse neanche su di lui nel caso che fosse stato bene, per cui secondo me è stato un grande errore quello di non prendere nessuno per poter sostituire Vlaovic. Ha fatto il suo, però Vlaovic spesso e volentieri è pasticcione, è preciso. Se non gli arrivano palloni, quelli giusti, lui sì fa il suo, fa la sua onesta partita, ma non è il classico centravanti alla Ronaldo, alla Tevez, alla Higuain, alla Trezeghe che ti inventa il gol e ti fa vincere le partite. Fatto sta che quando si parla di Juventus, quest'anno si parla di una fatica tremebonda nel fare gol. Abbiamo rischiato l'ennesimo 0-0, ci è andata veramente di culo, questa sera abbiamo vinto di corto culo e ovviamente potrei dire che dopo aver parlato in tempi passati del cul de Max, questa sera potremmo tranquillamente parlare del cul de Thiago, perché nel primo tempo secondo me la Juventus è stata veramente brutta, ma brutta, ma brutta. Farei un torto ad Allegri se non dicessi che è stata brutta come quella che abbiamo visto per tre anni noi in passato, salvo qualche rara partita. Veramente brutta. Nel secondo tempo finalmente, finalmente ha tolto un giocatore che si impegna, è un bravo ragazzo, il suo lo fa come riserva quando mancano tutti, ovvero Locatelli, ha messo Fagioli e la luce che era spenta si è accesa. Fagioli è un giocatore da Juventus che se lo fai giocare con continuità, cresce e diventa un grande giocatore. Per adesso è un prospetto di grande giocatore. Locatelli lo puoi far giocare 20 partite, 30 partite, 40 partite. Quello è e quello rimane, non ha lo spunto, non salta mai l'uomo, non fa mai una verticalizzazione, fa sempre passaggio scolastico, il compitino come si suol dire. Fagioli, pronti via, ha messo due palloni in mezzo all'area, che se erano un po' più svegli quelli della Juventus, potevano anche essere molto più pericolosi e trasformarsi in gol. Proprio perché, come ho detto poc'anzi, la fase offensiva della Juventus è vergognosa. Io raramente ho visto una fase offensiva così brutta. I migliori in campo, ve lo dico prima perché poi ne parleremo nelle pagelle, due difensori per i quali io stravedo, Calulu e Caval. Perché Caval era un mistero del perché non giocasse. Era un mistero. Inutile far giocare Cambiaso a sinistra quando puoi far giocare Caval e mettere in campo Savona. Savona ha fatto vedere che è un prospetto, lo facciamo crescere pian pianino, però questa sera ha commesso degli errori, uno particolarmente grave che poteva far segnare a Lazio. Ma soprattutto il problema grosso è che noi abbiamo giocato praticamente per più di 70 minuti in superiorità numerica e non siamo stati capaci di velocizzare il gioco. Non si muovevano mai i giocatori senza palla. Volevano la palla sul piede. E non va bene questo. E non va bene questo. Qui assolvo l'allenatore perché si sentiva, e lo hanno detto i commentatori, che lui chiedeva appunto un movimenti più veloci e farsi vedere. I giocatori evidentemente non hanno capito questo dettame perché, francamente, stasera ho visto la più brutta partita. Vi ho detto i migliori, vi dico il peggiore in campo. Il peggiore in campo, ma proprio per distacco, è stato Ildaz. Ildiz. Inguardabile. Non ha combinato niente. Ormai quelle finte che fa destra-sinistra, sinistra-destra, le conoscono tutti. Se non mette su un po' di massa muscolare, ragazzo, lo marcano e non passa più. Non vediamo più palloni. Il gol della Del Piero lo può fare, ma se trova delle difese aperte, delle difese che non marcano a uomo, se trovi delle difese che non ti fanno respirare, quei gol non li fai più. Ma oltretutto non solo non fai gol? Mi metti in mezzo palloni pericolosi per le punte o per chi potrebbe, in teoria, inserirsi. Abbiamo visto, per l'ennesima volta, che noi non abbiamo centrocampisti o giocatori che fanno a gol da fuori perché Fagioli ha sparato alle stelle, Turam ha sparato alle stelle, Cabal, che non è un centrocampista, ma ha sparato alle stelle, Douglas Suiz ha fatto un tiretto telefonato. Non abbiamo noi giocatori che avevamo un tempo che davano una mano alla Juventus a vincere Scudetti e andare avanti nelle coppe. Io sono molto, ma molto preoccupato perché questa vittoria di questa sera, l'unica cosa buona della vittoria di questa sera, sono i tre punti che ci portiamo a casa e ci stacchiamo un po' di dosso il Milan, ci stacchiamo di dosso l'Udinese, ci stacchiamo di dosso la Lazio e quindi siamo lì tra le prime, no? Mane che vada saremo terzi anche domani sera quando avrà finito di giocare l'Inter e avrà giocato all'ora di pranzo il Napoli. Per resumo che il Napoli vincerà senza problemi a Empoli, rimanendo primo, chissà se la Roma di Juric riuscirà a strappare un pareggio all'Inter, dubito fortemente, dubito fortemente che riuscirà a strappare un pareggio all'Inter, penso che l'Inter vincerà e anche facilmente. Signori, che dire, una partita brutta, veramente brutta, qualcosina di meglio nel secondo tempo perché sono un altro, ci ha provato la Juventus, ma molti dei meriti vanno a Fagioli, che è quello che ha messo in mezzo palloni e ha smistato il gioco, cosa che Locatelli non sa fare, cosa che Douglas Lewis non sa fare, cosa che Turan non sa fare. Per cui penso che in questo momento è imprescindibile la presenza di Fagioli in campo nella Juventus. Poi faccia giocare chi vuole intorno, ma Fagioli è quello che deve accendere la luce in campo. Piccola parentesi, io stravedo per Fagioli, è un bel giocatore, ma se la Juventus deve puntare su Fagioli per cambiare il volto delle partite, non siamo messi molto bene, perché noi abbiamo speso 50 milioni per Douglas Lewis, 20 milioni per Turan e poi c'è sempre il mistero di Bergamo, il buon Copp Manius, che questa sera non c'era, probabilmente mancherà anche quello Stoccarda, però Copp Manius che ci si riempiva la bocca nel nominarlo Copp Manius, Copp Manius, non si è ancora visto quando ha giocato, non si è ancora visto. Per cui stasera nessuno può dire se c'era Copp Manius. Se un giorno Copp Manius si metterà a fare la differenza, allora sì potremo, come si diceva ai tempi di Nedved, se c'era Nedved la finale di Manchester con il Milan. Signori, non mi è piaciuta la Juve, fatemi sapere se a voi è piaciuta. Non penso che chi ha visto la partita potrà pensare diversamente da me, ovviamente arriveranno quelli degli highlights, quelli che hanno dato la disdetta alla Zone o a Sky e quindi non hanno vista, che vengono a commentare come se l'avessero vista. Queste a me fanno ridere perché non vedono le partite e poi si mettono a fare i commenti, a contestare le cose. Io le partite le guardo con molta attenzione, poi la riguardo il giorno dopo perché voglio vedere se ho detto delle castronerie, però vi garantisco che questa sera ho visto una bruttissima Juve, una bruttissima Juve, salvo solo i tre punti. Io vi auguro una buona notte, una buona domenica e se volete fra poco ci sono le pagelle. Ciao!